Il Real Madrid è un avversario bellissimo, sarà una partita meravigliosa. C'è da essere soddisfatti per ritrovarsi tra le migliori otto d'Europa. L'anno scorso ai quarti battemmo il Barcellona. Ho già detto che il Real è la favorita dalla Champions. Se la batteremo sarà ancora più importante, a parte che Dira che è influenzato, gli altri sono tutti a disposizione. Ovedes rientra tra i convocati. L'Istainer sta bene, Benatia è squalificato, Barzagli o Rugani, potrebbero giocare tutti e due. Devo valutare in ogni ruolo. Iguain sta bene e giocherà. Mangiukic non è in una condizione ottimale, ma fa sempre delle buone prestazioni ed è sempre importante per la squadra. Mercoledì ha fatto delle buone cose, risulta sempre un giocatore importante per la Juventus. Domani la partita non è scontata. Che nelle ultime tre la Spala ha fatto sette punti. Per loro sarà una partita storica. E giocano per la salvezza. Il campionato non è chiuso, come ho sentito dire. Il Napoli gioca bene e può arrivare a 100. La quota scudetto è la carica dei 101. Quando sono arrivato alla Spal si respirava l'aria del grande calcio e sentivi il peso della storia. Era stata un'annata bella, con molti giocatori tecnici, videodotti e nedvede. Ecco le reazioni ai sorteggi di Champions League.